ciao a tutti allora sì sono tornato da un po di tempo mancavo ammetto di di essere stato un po un fuggitivo negli ultimi tre mesi e avendo pubblicato un nuovo racconto ieri penso sia anche arrivato il momento di dare un po una spiegazione riguardo la mia prolungata assenza nulla di che in realtà sono stato molto impegnato con diverse produzioni teatrali la stagione è finita da poco quindi ora mi sto un attimino riprendendo ho lavorato a diversi altri progetti di cui magari più avanti parlerò insomma sono stato generalmente un pochino impegnato è anche successo un'altra cosa però di cui volevo parlarvi in quanto penso sia semplicemente giusto raccontarvi quello che è successo visto che è qualcosa che ha a che fare direttamente con il canale qualche tempo fa ho ricevuto una email da parte di youtube che mi informava appunto di aver commesso un'infrazione di copyright ora io nel corso degli anni sono sempre stato molto attento ai contenuti che ho pubblicato infatti anche quando molti di voi mi chiedevano appunto di leggere racconti recenti io ho sempre risposto non posso per questione di copyright eviterò di fornire troppi dettagli vi racconterò più o meno come andata la cosa ma non voglio rivelare troppo la cosa diciamo è ancora in fase di risoluzione perché ci sono stati degli degli eventi degli aggiornamenti su questa cosa che mi hanno lasciato un po confuso quindi finché la cosa non giunge alla sua naturale conclusione non voglio dare troppe informazioni per evitare appunto eventuali futuri casini ora la situazione è questa come ho detto qualche tempo fa ho ricevuto un'email mi è stato detto ha infranto un copyright ci è arrivata questa notifica e quindi abbiamo rimosso alcuni video e abbiamo applicato delle restrizioni al tuo canale ora la cosa di per sé non sarebbe stata tanto grave fino ad un certo punto diciamo ho pensato vabbè sono stati rimossi dei video erano dei video abbastanza vecchi non è un problema il problema si è presentato quando io effettivamente mi sono reso conto con un po di ritardo ammetto ma come ho accennato prima ero estremamente impegnato quindi non ho dato molto peso alla cosa inizialmente il problema appunto si è posto nel momento in cui io mi sono reso conto della gravità di queste restrizioni ossia è stata tolta bloccata la monetizzazione sui video che non è un aspetto fondamentale però insomma ci è voluto un po ad arrivare a quel punto e ora mi è stata tolta questa cosa ma soprattutto adesso non sono non ho più la possibilità di caricare video più lunghi di 15 minuti ed è una cosa abbastanza grave questa perché comunque sono abituato anche a registrare racconti parecchio parecchio lunghetti e quindi questa cosa mi limita fortemente una volta scoperta questa cosa appena mi sono reso conto di questa forte restrizione ho deciso di cominciare a cercare di risolvere questa questione contattando la persona che a quanto pare aveva fatto questo aveva sporto questo reclamo nei miei confronti ora io ho ricevuto questi mail che mi informava che una persona di cui non farò il nome tramite un'agenzia di cui non farò il nome aveva sporto un reclamo verso alcuni miei video dicendo appunto che avevo infranto dei dei copyright ora come ho già detto diverse volte tutto quello che io registro fa parte del dominio pubblico quindi non non appartiene più cioè quelle cose che registro non appartengono più a nessuno naturalmente si va a parlare di discorsi di traduzione eccetera eccetera anche ma quello è un altro discorso si rientra anche diciamo nel discorso di cosa è reperibile su internet e cosa no insomma è un'area un po grigia comunque ricevo questo reclamo e decido di contattare la persona il nome che compare diciamo in cima a questo reclamo contatto questa persona anche lei è una narratrice di audiolibri come me contatto questa persona facendole notare che effettivamente non ho infranto alcun copyright che l'opera letta fa parte del dominio pubblico e che insomma le chiedevo gentilmente di poter revocare questo reclamo per poter riavere tutti i privilegi sul mio canale questa persona a mia grande sorpresa tra l'altro mi risponde subito dicendomi non sono stata io e quindi la faccenda si complica ancora di più il che vuol dire che qualcuno ha utilizzato il nome di questa persona si è rivolto ad un'agenzia terza che si occupa appunto di gestioni di copyright su internet e ha fatto questo reclamo nei miei confronti ora io sono in contatto con questa persona adesso la quale ha subito un furto d'identità fondamentalmente perché è stata diciamo iniziata una sorta di azione legale utilizzando il suo nome questa persona si è rivolta alle autorità e ha sporto denuncia io adesso dovrò cercare di contattare youtube cosa più facile a dirsi che a farsi perché il sistema dei reclami di copyright su youtube è fondamentalmente gestito in maniera pessima perché chiunque può sporgere reclamo è molto più facile sporgere reclamo e danneggiare un canale piuttosto che poi cercare di togliere queste restrizioni e questi reclami la cosa rischiosa appunto è che io adesso sono ad un reclamo se dovessi arrivare a tre in un periodo diciamo abbastanza ristretto il canale verrebbe completamente chiuso e in quel caso anni di lavoro e lacrime e sudore andrebbero completamente persi quindi questa persona come ho detto ha sporto denuncia adesso stiamo cercando di lavorare insieme per capire chi è stato a fare questa cosa perché naturalmente lei ha subito questo abuso di identità a me è stata applicata una restrizione notevole al canale togliendomi appunto dei video anche e quindi vogliamo capire chi è stato e perché per quale motivo quindi credo che finché non riuscirò a risolvere questa cosa probabilmente non pubblicherò altri racconti anche perché pubblicarne di brevi sotto 15 minuti insomma non è proprio la mia massima aspirazione preferirei fare cose un pochino più corpose cosa che non posso fare ora né tantomeno mi va di registrare una cosa lunga e dividerla in puntate perché non la ritengo una cosa bella e sono anche abbastanza alterato scusate sono anche abbastanza alterato nei confronti di youtube perché qualcuno tramite un'agenzia esterna che tra l'altro appunto vorrei sottolineare il fatto che questa agenzia non si è nemmeno presa non si è nemmeno presa la briga di controllare effettivamente l'identità della persona che richiedeva questo reclamo insomma così in con estrema facilità qualcuno ha deciso che il mio canale fosse intorto per quanto riguardava dei copyright senza nemmeno controllare mi hanno detto ok adesso ti ti applichiamo queste restrizioni e tu fondamentalmente non puoi fare niente l'unico modo che io ho per togliere questa restrizione è contattare la persona che ha fatto reclamo che ha sporto reclamo il problema principale che io non so chi sia questa persona perché mi è stato dato un nome che poi però non è quello quindi adesso mi dovrò andare ad immischiare in un lunghissimo processo burocratico per cercare di di sbrogliare questa situazione e non ho assolutamente voglia di farlo devo dire ma per difendere il mio lavoro e tutto quello che ho fatto in questi ultimi anni lo dovrò fare anche appunto perché essendo in contatto con questa persona la cui identità è stata rubata tra virgolette penso sia giusto capire chi è stata a fare una cosa del genere ora detto questo probabilmente finché appunto non risolverò la cosa non pubblicherò altri racconti a meno che insomma un giorno non mi senta particolarmente ispirato trovi un racconto breve da registrare non lo so però non lo so quindi tutto qui scusate un po la pazzia di di questo messaggio vocale abbastanza lunghetto era un po che non ne facevo quindi credo di aver perso un po l'abitudine però più o meno vi ho spiegato la situazione e cosa succederà nel futuro e cosa mi sta tenendo impegnato in questo momento e se qualcuno di voi dovesse non so avere qualche informazione al riguardo qualche dritta utile mi faccia sapere mi contatti e tanto qualsiasi cosa può essere utile in questo momento perché oltre a contattare youtube tramite un form che mi hanno dato loro insomma seguire tutto questo lunghissimo processo burocratico che non finirà mai insomma a parte questo non so cos'altro fare quindi se qualcuno di voi ha qualche altro consiglio insomma sono qui e lo aspetto volentieri grazie e a presto spero ciao